E' stata una grande partita come atteggiamento perché fin dall'inizio abbiamo provato a vincere, abbiamo subito spinto forte, poi dopo siamo stati bravi a non mollare, a continuare ad essere incisivi. Quindi magari dopo 20 minuti abbiamo concesso qualche metro in più al Padova, però sapevamo che poteva essere un'opportunità perché tenendo su Jonathan, Seppolucci nelle ripartenze potevamo diventare pericolosi. E poi sono stati bravi ragazzi a continuare a spingere, a crederci fino al 3-0 senza demordere, senza mollare di un centimetro e volendo a tutti i costi questa vittoria. Quando hai un pubblico che comunque ti incita per tutta la partita, che sin dal primo fino al novantesimo, novantacinquesimo e passa, non fanno altro che applaudirti. Ovviamente è merito anche nostro, però si vede che loro ci stanno molto vicino e questo ci aiuta molto. Sicuramente piano piano che continuano a giocare, che mettono minuti nelle gambe, cresce sia l'autostima che la condizione fisica. L'intesa è con tutti i compagni perché comunque è un gruppo fantastico e quindi sono molto contento di stare qua. Mi sono impegnato fin dall'inizio da quando sono arrivato per cercare subito di trovare le misure dentro al campo con loro e mi sto trovando benissimo.